Salve a tutti ragazzi, sono Kingslave Corporation e benvenuti in questo nuovo live Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su Twitch e su Youtube come Kingslave Corporation e andiamo avanti Oggi non faremo il finale del gioco perché completeremo, platineremo, God of War Lo platiniamo Come? Prima di tutto devo dirvi una cosa Mentre ho staccato la live di stamattina, non la prima ma la seconda Ho continuato un po' per potenziarmi gli avambracci della Valkyria Solo che, io stupido, non avevo calcolato questo Devo potenziare ancora la corazza della Valkyria E la scarsella della Valkyria Quindi oggi recupereremo, recupereremo, stemma sovraio dalla fiamma Poi dobbiamo prendere il castigo dei Aesir E... Le carini di Flame Quindi continuiamo Ciao, buonasera A ver, poncho... A ver, poncho... ... Sì Grazie a tutti. 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 Un'altra porta aperta. Grazie a tutti. Pronto? Oh, parlavi al ragazzo, certo? Sono pronto. Sono pronto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Madre... Grazie a tutti. Ecco il passaggio. Ecco il passaggio. Grazie a tutti. 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 Faticoso. Molto faticoso. Occhio perfetto. Occhio perfetto del regno. Vediamo un po' cos'è. Molto faticoso. Molto faticoso. Molto faticoso. Stai pronto? Sì. Sì. Raga, sono stati. Ma il cielo è diventato! Sì. 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 Si. Sì. 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 wow e ah 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Oh Oh Check Grazie a tutti 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 Vedo l'uscita Grazie a tutti 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 devo andare a livello 6 non qui qui tanto a chiave ce l'ho tutti e tre vai a livello pronto 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 no 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 ragazzi mi dissocio mi dissocio da quello che ha scritto cristiano mulando 0 2 no mi dispiace cristiano ma non sono pienamente d'accordo signori di twitch mi dissocio no 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 ragazzi mi dissocio anzi no 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 mi dissocio mi dissocio levo adesso quello va aspetta no no mi dissocio mi dissocio ragazzi levo il commento levo il commento subito levo il commento subito si c'è il commento della live precedente però ragazzi mi dissocio da quello che ha scritto mi dissocio signori di twitch io non so niente io non so niente ripeto mi continuo a dissociare io non ne so nulla nulla io non so venti il 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 è il 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 mi risorcio completamente mi risorcio proprio non ci sto no no non vuoi sapere niente io non ci sto visto che sto video viene pubblicato pure su youtube signori di youtube mi risorcio io non ne so nulla non vuoi sapere niente io non vuoi sapere nulla ci sono sempre queste teste che fanno come cazzo gli pare che fanno come cazzo gli pareczi Siamo pronto! Siamo! No Grazie a tutti. 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 Oh... 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 Ci riprendiamo tra poco ragazzi